È un evento sicuramente che porta economia, ma altrettanto è anche un evento che crea aggregazione, cioè anche le persone si incontrano per la strada, è un evento che dobbiamo assolutamente spingere, anche il prossimo anno sarà anche col fatto che Pesaro sarà capitale della cultura, faremo in modo di cercare di renderlo ancora più bello. Quest'anno ci sarà lo spettacolo, come sapete è stata inaugurata qualche mese fa Piazza D'Annunzio, quindi quell'area diventerà anche area spettacolo di intrattenimento per le persone che vengono alla fiera. Ringrazio per la collaborazione tutte le associazioni di categoria, per il lavoro che abbiamo fatto insieme, Pesaro Parcheggi che è quello che organizza il tutto e quindi ci vediamo sabato tutti in fiera, mi raccomando perché dobbiamo aiutare anche gli ambulanti che sono a disposizione e sono lì per vendere tutti i loro prodotti. Gli ambulanti sì, hanno superato quota 550, quindi ha conferma che la fiera è fortemente voluta e apprezzata anche dagli espositori, non solo dalla città di Pesaro e il giorno in più ne agevola chiaramente la partecipazione. Il percorso, diciamo l'area occupata dalla fiera in San Nicola partirà indicativamente da via Mascagni fino a via Fiume e i viali Trieste e Trento, sono oltre 3 km di percorso fiera quindi ce n'è per tutti i gusti. Pesaro Parcheggi non può tralasciare il tema parcheggi naturalmente, la fiera ovviamente congestiona tutta l'area mare sia per i residenti ma anche per i visitatori, quindi ci siamo mossi da un lato per i residenti cercando di agevolare la sosta e quindi i titolari di permesso D2, D1 e zona E, che detto così sembra complicato ma i residenti chiaramente sanno di cosa stiamo parlando, potranno parcheggiare in tutta la zona mare senza dover pagare, quindi sugli stalli blu. Mentre per i visitatori abbiamo attivato il servizio bus navetta, quest'anno sarà raddoppiato dal parcheggio San Decenzio, dal parcheggio Cimitero, quindi oltre 600 posti auto gratuiti collegati in fiera da una navetta in funzione sabato e domenica dal mattino fino alla sera e lunedì martedì il pomeriggio dalle 16.23. La fiera innanzitutto funziona perché ci sono i commercianti che vendono, i bambini devono stare lì e liberarsi di un po' di giochi che hanno a casa e giocare a fare i commercianti, è bello così e funziona così, magari evitare che i grandi vanno lì a vendere le scarpe e i vestiti che hanno nell'armadio, possono usare altri strumenti che ci sono sui social e sul mercato in rete per vendere quello che hanno in casa. Debbono lasciar far sì che la fiera sia un modo per spendere qualcosa per i genitori in giro nelle bancarelle e un momento ludico di divertimento per i più piccoli. La particolarità della fiera di San Nicola, come sappiamo, nasce con il discorso della vendita delle cipolle, però poi dopo negli anni si è sempre di più provato e portato prodotti alternative, tutte le fiere di tutta Italia, però è una delle fiere più grandi d'Italia che abbiamo, quindi dobbiamo andarne fiere, dobbiamo cercare di valorizzare e aiutare anche chi fa sì, che ho notato ad esempio anche sui social che già gli albergatori da qualche mese stavano pubblicizzando la fiera di San Nicola, quindi questo crea un indotto importantissimo per la nostra città.